ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dunque allora ieri c'è stata la manutenzione oggi ho loggato classica pagina iniziale come dicevo nel video scorso quello delle cacche di knox c'è stato qualcosa che si è buggato e quindi nelle ricompense dalla gente delle ricompense non dava la cacca di knox la cassa di knox ok dopo l'aggiornamento di ieri barra manutenzione qua abbiamo finalmente la cassa di knox non so quante ne possiamo prendere c'è chi ne ha preso 5 se non ho capito male ne poteva riscattare 5 qui mi scrive una quindi non lo so quante ne potete prendere adesso comunque prendiamo tutto facciamo tutto quindi comunque ecco hanno sbloccato diciamo barra aggiustato fissato sta roba e quindi è di nuovo disponibile la cassa di knox dalla gente delle ricompense inoltre o in più abbiamo anche qua nella voce promozione abbiamo anche questo pacchetto pacchetto scelta compagno celebrativo come potete vedere qua abbiamo cinque compagni leggendari ad account quindi quando ne riscatteremo uno quando ne sceglieremo uno questo compagno sarà disponibile con tutti i nostri pg abbiamo il compi capobranco che è un ottimo compagno melma verde anche quello è un un ottimo compagno ragno fase è un ottimo compagno battiri è un ottimo compagno e golem brinardente non è malaccio a livello di statistiche poiché se non mi ricordo male da potere severità non mi ricordo comunque ecco non sono malissimo è sicuramente il battiri e il compi a livello di danno o di potere sono quelli più gettonati a livello di statistiche ragno fase è un buon compagno perché passa critico e vantaggio si critica vantaggio melma verde è un buon compagno per i tank casomai servisse difesa se non erro mi pare che dia totalmente solo difesa in percentuale quindi un 7 e mezzo di difesa credo suppongo e golem brinardente dovrebbe appunto passare sempre statistiche tipo potere severità se non mi ricordo male quindi allora vediamo se ce l'ho non lo so eccolo qua golem brinardente si esatto allora abbiamo detto abbiamo detto il golem brinardente eccolo qua golem brinardente han cambiato punti ferita severità io mi ricordavo potere ah no forse era di peltro golem di peltro non mi ricordo comunque punti ferita potere severità qui golem brinardente poi abbiamo il compi appena lo trovo eccolo qua io adesso c'è la leggendaria comunque compi capobranco 7,5 di potere a mitico poi abbiamo ovviamente il battiri che equivale a un 11 per cento di di danno contro contro i boss abbiamo il ragno fase qui probabilità critico e vantaggio in combattimento melma verde che non so se ce l'ho qua si eccola melma verde percentuale di difesa io ce l'ho verde credo comunque singola statistica quindi è probabile che sia un 11 per cento di difesa e poi cos'è che c'era già non mi ricordo più mi sa che l'ho detti tutti comunque sì penso di averli detti tutti torniamo qua sì li ho detti tutti ok quindi allora riscattiamo sto coso tac andiamo a riscattare anche la cassa di knox vediamo quanto ce ne fa prendere una una basta c'è chi ne ha preso 5 da quello che ho capito e niente ora dato che hanno affixato sta cassa di knox qui alla gente dei ricompense vediamo se hanno affixato anche la cassa al bazar adesso io sta settimana l'ho già comprata la cassa al bazar volevo capire se potevo comprarle più di una magari con sto fix 35.000 allora costa 30.000 boh boh che ne so una milionata tanto non me le fa comprare me lo sento lo so cioè istintivamente mi sento così bazar fantastico allora negozio ecco 30.000 la cassa di knox ecco non me la fa comprare gg gg e vabbè oggetto nero in anima questa roba non serve a niente tipo il dada ventifaccia il cubo qui non è male però vabbè vabbè insomma allora apriamo sto pacchetto della cassa di knox dato che ce n'ha dato solo uno ad aprire dove cavolo è ah no cinque ok sono cinque sono cinque tutto tutto regolare pare eeeh quindi allora apriamo sto cinque sacchetti allora io di queste qui ne ho aperte delle cacche di knox ne ho aperte vediamo che non mi ricordo ne ho aperte 74 credo penso o 75 non mi ricordo vabbè comunque sono arrivato a metà c'è chi ha droppato questo pacchetto qua su dove c'è i compagni mitici e cavalcature mitiche con 12 sacchetti di knox io ho 75 mi ha dato 30 aggetto near and roll e questa roba è così quindi apriamo questi pacchetti e vediamo cosa ci cosa non ci da allora dove cavolo è finita che non lo trovo più ho perso ho perso eccola no eccola allora allora apriamo insieme uno due tre via e 10 gettoni potenziamento cavalcatura questi mi mancavano per arrivare a 200 gettoni così posso 200 gettoni posso portare l'ultima cavalcatura del paladino a 100% di rinvigolimento apriamo la seconda cassa e vediamo cosa ci da ah vabbè il totale aperto è 76 con questo quindi apriamo la seconda cucciolo di orso polare va bene salva niente intanto è vincolata a count sicuro vabbè aprirò un altro work presente una cavalcatura vabbè da sta cassa chiave leggendaria con questa chiave possiamo aprire tutti i forzieri ultima cassa tanto non ci da niente evviva un'altra chiave leggendaria allora vincolata a count non è vendibile quindi questo pure vincolata a count non è vendibile spinoso luminoso tanto potrei già averla sta cavalcatura controlla colpo critico severità colpo critico severità non penso di averla come potere equipaggiamento remplica colpo critica stabidi intera controllo constowiezza precisione velocità velocità colpo critica consapevolezza riviazione difesa potere difesa di viazione niente vantaggio precisione difesa precisione niente evasione punti ferita punti ferita massimi severità ma non ce l'ho allora me lo metto ringiovanimento tanto non lo posso vendere sto work pesante quindi che ci devo fare vediamo vincolata vincolata account la faccio giusto per accertarmi che non posso venderlo vediamo le finite ecco infatti allora lo equipaggiamo lo equipaggiamo ecco fatto precisione critico severità 900-900 vabbè perché non è mitico ci sta cucciolo di orso polare vabbè non lo so l'equipaggia tanto è vincolato vabbè lo chiamiamo così vabbè e qua qua una bella scelta melma verde sul tank potrebbe essere utile qui è una bella scelta raga almeno personalmente qui nel mio caso io sceglierei un compagno adatto a tutte le occasioni per così dire quindi tipo compi o ragnofase perché insomma avendo più pg un po' questi due qui compio o ragnofase se invece dovessi guardare specificamente la classe se devo dato che le ho tutte e tre le classi dps curatore e tank dal tank prenderei la melma verde da curatore il compi capobranco al leggendario mi sa che sull'healer ce l'ho già però non è che c'è solo un healer ho un paio di healer ovviamente quindi anche tre potrebbe tornare utile anche se ce l'ho già il compi su tutti e tre i pg per dire il ragnofase boh il ragnofase da buone statistiche critico vantaggio non saprei sinceramente devo decidere qua devo decidere sono molto incerto vabbè comunque raga questo è un piccolo video anzi non so nemmeno più se è piccolo perché non so quanto è durato quanto sta durando comunque ecco volevo farvi sapere questa cosa dell'aggiornamento delle casse di knox delle ricompense da riscattare dalla gente delle ricompense e quindi niente raga con questo ho detto tutto e ci sentiamo al prossimo video ciao 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 ciao